No al parcheggio selvaggio, è questo quello che chiedono gli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Tor Vergata. Sono le 9.20 di mattina e come potete vedere il parcheggio è pieno. È partita questa mattina l'iniziativa di volantinaggio organizzata dagli studenti per sensibilizzare i fruttori del parcheggio della Facoltà sui disagi causati dal loro comportamento. Il problema è anche della sicurezza in quanto il parcheggio non è sorvegliato e per esempio io parlo da ragazza, noi ragazze quando si fa notte è un problema venire al parcheggio quando non c'è praticamente nessuno che sorveglia e nessuno che ti sente se c'è un malintenzionato. Quindi noi vorremmo risolvere questo problema, abbiamo fatto questa campagna di volantinaggio e speriamo di sensibilizzare la gente in questo modo. Due sono i problemi principali, l'occupazione dei posti per i disabili e i visitatori dell'università che invece di utilizzare il parcheggio al loro riservato usufruiscono del parcheggio per gli studenti. Sono studente di medicina e molto spesso purtroppo trovo il parcheggio invalidi, il parcheggio riservato appunto agli studenti, occupato. E questo è un problema perché ogni volta sono costretto a litigare, a discutere con le persone che appunto parcheggiano impropriamente. Spesso io sono costretto a dover parcheggiare addirittura dietro il dipartimento di fisica che si trova proprio alla fine di questi parcheggi e di conseguenza sono costretto a farmela diciamo a piedi con tutta la pioggia che scende e arrivare praticamente a zuppo a lezione e a volte non essere neanche in grado di poter seguire la lezione stessa. Spesso nel parcheggio si verificano atti vandalici come specchietti rotti e serrature scassinate. Inoltre i controllori sono solo due e le sbare di sicurezza non sono attive per garantire la possibilità di parcheggio in caso di emergenza. Marco, quale può essere la soluzione a questo problema? Innanzitutto noi studenti vorremmo magari una vigilanza all'interno del parcheggio che potrebbe essere attuata tramite la costruzione di un gabbiotto con un vigilante magari all'interno che potrebbe controllare anche come figura proprio fisica l'andamento del parcheggio durante la mattina. Purtroppo lo sapete un problema comune dell'università italiana è che mancano i finanziamenti, mancano i fondi e quindi ogni cosa che si vuole fare all'interno delle facoltà, all'interno dell'Ateneo è sempre vincolata alla ricerca di fondi che attualmente non ci sono. Questo è un grave problema, naturalmente che è più largo rispetto ai problemi strutturali del parcheggio. Antonio, sarà una protesta d'oltranza? Sicuramente la protesta non si può fermare così, ma intanto abbiamo sensibilizzato la gente. Un primo attacco l'abbiamo dato. Adesso aspettiamo la risposta, vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni e poi in caso passeremo a qualcosa di magari più aggressivo, sempre nei limiti dell'educazione della civiltà. Da poche settimane il preside della facoltà, il professor Giuseppe Novelli, ha stipulato una convenzione con una ditta esterna per la rimozione coatta delle auto che impediscono il normale passaggio.